Alla fine tutti sanno che anche gli occhi parlano. Questo 2020 è stato surreale. Lo viviamo così tanto che non ce ne rendiamo conto. Ogni tanto realizzo, ogni tanto ricordo piazze piene di gente, risate che formano cuori, abbracci che si rincorrono. Quei due bacetti sulla guancia, uscire di notte senza motivo. Ho realizzato solo a Natale questa folle situazione, vedendo un Natale pieno di luci per le strade, ma buio pesto nelle case. E mi manca la spensieratezza. Mi manca guardare l'espressione delle persone che incontro, che con questa mascherina non vedo più. Dietro tutti quei visi che ogni giorno incrocio, mi chiedo sempre che forma abbia il loro volto. Che espressione hanno in quel momento, anche se non serve vedere tutto il viso per capire quanto ci sentiamo a disagio. È necessario guardarci negli occhi, che sono tornati a fare la loro parte. Così trascurati prima, ora sono tutti capaci di parlare.